Salve a tutti amici, salve, buona giornata, buona giornata a tutti. L'altra sera non ho visto chi l'ha visto, non ho avuto modo di vederlo, ma ho letto dei restoconti, mi hanno illustrato e ho visto poi qualcosa indifferita. Sempre sul caso Liliana, ovviamente. Siete, volete sapere alcune mie impressioni? Bene. Io non voglio essere di parte, perché qualcuno dice tu ce l'hai con quello, ce l'hai con quell'altro. No, no, chi fa informazione e anche chi commenta lo deve fare, a mio avviso, scevro da ogni disegno mentale. Secondo le cose che emergono, così bisogna riportarle e farsene un'opinione. Quindi io sarei il primo a condannare Sebastiano nel momento in cui ci saranno gli elementi per condannarlo. Però quando uno vede chi l'ha visto e si dice Sebastiano non va da loro, non va a questa trasmissione, e poi nell'ambito di questa trasmissione cosa si vede? Si vede che hanno trovato un appartamento dei genitori di Liliana, questo appartamento che è disabitato ormai, e loro che cosa hanno ipotizzato, amici miei? Hanno ipotizzato che lì, nella parte scantinata, c'è un luogo, una cantinola abbastanza asciutta, perché un corpo di un quadavere possa stare lì un paio di settimane, quindi poteva essere, qualcuno l'aveva messo lì e poi è stato portato poi nel boschetto. Qualcuno. Qualcuno chi, dico io, qualcuno chi? Se si parla della cazza dei genitori di Liliana, è ovvio che il riferimento, seppur non lo si dice, il riferimento è a Sebastiano, ma vi sembra una cosa sensata che un Sebastiano, va bene in quelle condizioni, ma senz'altro attenzionato almeno il giorno dopo, due giorni dopo, tre giorni dopo, attenzionato, certamente dai carabinieri, cosa fa? Non si sa per chi, uccide la moglie, non si sa come, la mette lì, la lascia lì, a casa, nello scantinato, poi dopo, magari a inizio d'anno, la va a prendere senza problemi, la mette in auto e la porta lì, senza alcun tipo di problema, e poi si dice che uno non va in trasmissione, ma che si dicano o che si facciano delle allusioni, voglio dire così, così gravi, ma veramente stiamo scherzando, stiamo scherzando. Poi, cosa è emesso pure, è emesso pure questo fatto del telefono, allora circa la Win 3, dice, non può darsi che sia uscita Iliana perché doveva andare alla Win 3, forse per comprare un telefono, perché è venuto fuori che una parente, non meglio precisata, di Sebastiano, aveva chiesto in regalo un iPhone 13 del valore di 1.400 euro e alcuni amici ne danno testimonianza di una, diciamo che era venuto fuori questa cosa ad una cena e Liliana aveva detto, ma non se ne passi, arrangino. E Sebastiano? No, Sebastiano, niente, stava zitto, non ha detto niente. Figuriamoci, se Sebastiano avesse detto, no, ma come la mia parente, ci dobbiamo fare questo regalo, allora sarebbe stato, come dire, il momento, il momento di qualcosa di gravissimo in non aver comprato, il Sebastiano sta zitto, cioè uno chiede un regalo, ma non lo so a che titolo, un regalo per Natale di tale valore, poi non si sa a che titolo, e quindi si ipotizza che poi non si sa come, perché Liliana quella mattina stesse andando alla win, forse a chiedere il prezzo, a chiedere il prezzo di altri telefoni, ma cosa c'entra questo poi con la, la dinamica? L'aveva dato appunto a me, qualcuno dice, l'aveva dato appuntamento stesso Sebastiano, gli diceva, beh, io esco, poi ci diamo appuntamento lì per comprare il telefono, quindi finge di dover andare a comprare il telefono per fare qualcosa, non seguo, come dire, non seguo questa logica di questi, ecco, adesso ci vuole, questi sassi buttati a casaccio, nella mischia, insomma, comunque, poi, un'altra cosa, esce fuori un'impronta su uno dei sacchi neri, un'impronta su uno dei sacchi neri, e questa cosa, questa notizia rimarrà così per mesi, come il fatto dell'impronta sullo, sullo, sullo spago, o altre analisi che non escono fuori dopo mesi, ma nemmeno se si dovesse fare delle analisi, come dire, su le pesti di, come dire, le pesti di Mars, di Giove, di Venere, insomma, talmente che è difficile, non lo so, per carità, comunque, quello che emerge invece dagli ambienti investigativi è che, sempre che gli inquirenti anche siano, adesso, orientati, è convinto che il corpo non sia stato lì per tutto quel tempo, perché hanno visto che la conservazione del corpo non è compatibile, il corpo non aveva subito l'assalto di nessun tipo di animale, le busse che coprivano il corpo erano nuovissime, non di tre settimane o che, quindi ciò è automatico che significa che non è un suicidio, e non è un suicidio, ma anche, lo si vedeva anche da un percorso logico, perché, che cosa emerge ancora? Un'altra piccola novità, che quella mattina, quella mattina Liliana, oltre a fare la lavatrice, a lasciare i panni, a stendere i panni, a fare la indifferenziata, che poi va a buttare la indifferenziata, a prendere l'integratore, a fare colazione, poi, a verbale, si legge a verbale che fece fare Sebastiano, rifece pure i letti, perché al ritorno Sebastiano trovò tutto rassettato, quindi rassettato alla perfezione anche i letti, il letto rifatto, quindi, immaginate voi questa persona disperata, che deve andare a suicidarsi, non fa tutto come se nulla fosse, rifà perfino i letti, allora dobbiamo fare le barzellette amici miei, dobbiamo raccontarci delle stupidità, vogliamo, vogliamo fare in modo che in questo caso, vada nel dimenticatorio, venga scriviato così, tanto per, giusto per, perché non si riesce ad andare avanti su una ipotesi di colpevolezza, poi, quando si accusa Sebastiano, vedete, pure la dottoressa Bruzzone, che io stimo, però, quando si dà addosso a Sebastiano, perché non hai consegnato i telefoni, perché non hai consegnato i telefoni, appasta giustamente che quello, nella sua confusione mentale, nel suo intorbitimento mentale, dice, no ma, sono venute tante volte la polizia, stavano lì, non li hanno presi, ma lei perché, lei perché non l'ha consegnato, bene, cosa emerge, emerge che quella sera, alle ore 22 del 14 dicembre, quando lui andò, insomma, poi a fare la denuncia di scomparsa, dichiarò avverbale, a casa sono rimasti i due cellulari di mia moglie, quindi l'ha dichiarato quella sera stessa avverbale, quindi che poi non siano andati immediatamente i carabinieri a prenderli, ma stava dichiarato subito là, quindi, questo è importante. Ora, il fatto di questi telefoni che stanno a casa, amici miei, secondo un percorso logico, e questo è importante, stanno a casa, o perché uno esce e deve tornare subito, pochi minuti, poco tempo, allora dice, vabbè, è cambiato pure a me, a volte metto il telefono sotto carica, dico, vabbè, vado a fare un servizio, dieci minuti e attorno, quarto d'ora, è inutile che mi porti il telefono appresso, dando, torno subito a casa, capita. Seconda ipotesi, che invece siano stati riportati a casa, e se facciamo questa seconda ipotesi, a riportarli a casa, ovviamente, o li riporti il marito, o qualcuno che aveva le chiavi di casa. Può essere Claudio, può essere vicino di casa, salvo, o chi? Non si sa. Poi, poi può essere terza ipotesi, che, e questo l'ho fatta, ma qualcuno non mi ha seguito su questo ragionamento. Terza ipotesi, che abbia lasciato, Liliana, sia i documenti, è importante questi, i suoi documenti, i suoi cellulari a casa, per non essere ricattabile. Per non essere ricattabile. Perché se io vado a un appuntamento in cui devo chiarire, un appuntamento con qualcuno, che io temo pure qualcosa, allora io vado con nulla addosso, perché temo che questa persona mi possa ricattare. Cioè, se io vado da questa persona, che non voglio che si sappia che io vado a fare questo chiarimento, ok? Non mi porto i documenti, non mi porto i portafogli, non mi porto i telefoni, perché temo che se questa persona mi sottrae anche la fede, per dire, ho il telefono o qualcosa, poi possa questa persona dimostrare a qualcuno di dire, è venuto da me, perché così, 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 io ho il suo cellulare, io ho la sua fede, io ho i suoi documenti. Non so se è chiaro questo passaggio. Questo passaggio deve essere chiaro, perché è un'ipotesi, è un'ipotesi. Quindi, questo chiarimento da una persona che lei temeva, per non postarsi niente, secondo questa ipotesi, chi voleva essere? O un terzo uomo che non è mai compasso, o forse Claudio che era stato rifiutato, nel senso che si era palestrato e lei non ne voleva sapere assolutamente di questo fatto. Può essere. Ora, ritornando un attimo sul punto del ritrovamento del cadavere e sul perché è stato ritrovato il giorno 5 gennaio, viene in mente quanto detto da Fulvio Covalero, quella è importante questa cosa qua. Quando egli dice che, mi sembra, verso fine anno, 27-28 dicembre, va in questura e va a dichiarare che egli aveva avuto la sensazione che il corpo potesse stare in quella zona, che lui era andato in quella zona, eccetera, eccetera, e poi lui si confida. E poi fa l'ipotesi e dice, ma qualcuno che ha saputo di quanto io ho detto, magari è andato a mettere il corpo lì. E chi è questa persona che ha saputo? Certamente non Sebastiano. Con Claudio si era visto. Questo è passato sotto traccia, questa cosa qua. E vabbè, è una cosa che ho voluto ricordare, perché, vedete, è importante, vedete, perché si dice, ma come mai poi non è stato trovato prima? Ebbè, facciamoci delle domande. Certo, questi esami, leggo, e qua sono quasi pronti, un'altra poco, un'altra settimana, ma questi esami sotto le scarpe, soprattutto, di Liliana, per vedere se andate con i suoi piedi fino a là, il terriccio, se era quello lì compatibile, ma tanto tempo ci vuole. Ma poi questi medici che usano anche queste espressioni, vedete, a me, a volte mi fanno ridere, perché poi mi ricordano quei medici legali che presero un cane bruciato, cioè una persona bruciata per un cane, figuratevi, quando i medici dicono, ad esempio, in questo caso, no, non c'è asfissia, poi, no, ci sono lievi segni di asfissia. Cosa significa ci sono lievi segni di asfissia? Un cuscino sulla faccia, una mano sulla faccia, un'asfissia di 10 secondi, 20 secondi, 30 secondi. Non è dato sapere. E nemmeno ci dicono, secondo loro, da quanti giorni il corpo stava lì. Comunque, amici miei, per concludere questo ragionamento di stasera, io credo che bisogna fare delle ipotesi di esclusione, bisogna andare per esclusione. sopprimere Liliana, secondo me, non giovava a Sebastiano. Non vedo che tipo di giovamento potesse avere. Il movente economico non c'era, il movente sentimentale, io credo che Liliana niente avesse da dire a Sebastiano, non aveva niente da dire. Invece a Claudio stava, da Claudio, secondo me, si stava illudendo tanto, che stava diventando quasi uno stalker, tutte quelle telefonate, 20 messaggi al giorno. E quindi Liliana è probabile che abbia voluto chiarire con lui il senso di un rapporto che era nato per un'assistenza amicale, insomma, niente di più, voglio dire. Ma non è che qua siamo questi uomini fascinosi, palestrati che fanno colpo su una su una signora magari non più giovanissima e tutti questi giovani belli palestrati che uno se ne va di testa, c'è uno di 82, 83 anni, ma per carità, ma qua vogliamo far dire i polli, ma veramente vogliamo far dire i polli. Quindi, secondo me, il rapporto è quello di un'assistenza, di un'assistenza, niente di più. Poi si va a vedere gli alibi Sebastiano aveva quanti minuti aveva libri da fare una consegna o un'altra, ma ci siamo chiesti il Claudio quale quale alibi poteva mai avere lui, non ne ha nessuno. Ci siamo chiesti perché Claudio chiama subito salvo il vicino di casa. E poi, invece di fare queste inchieste che leggo qui sulla casa dei genitori di Liliana abbandonata, dove chissà chi, chissà chi poteva aver messo il corpo di Liliana per un paio di settimane così, giusto, in deposito. Chissà chi poteva essere. Chissà chi. Ma perché sono andate a vedere a via Pintemonte, la proprietà di via Pintemonte, sono andate a fare altri tipi di ispezioni. Penso che forse sono andate, lo spero. Poi, vedete, sento in giro, vedo su YouTube, vedo in trasmissioni, molti che senza averne nemmeno tante competenze, io per carità, io ho l'esperienza della mia vita, tanti anni nel sociale, però molti fanno le analisi comportamentali, come si comporta uno, come si atteggia un altro davanti alla telecamera, quello ha chiuso gli occhi, si è messa la mano in faccia, si è trattato il naso, quello significa quella cosa lì, invece, i comportamenti devono essere comunque contestualizzati, ripetuti, non è che i gesti occasionali fanno un comportamento, comunque, io in linea di massimo vedo che Sebastiano ci mette la faccia, anche se ha sempre quell'atteggiamento un po' confuso, come dico io, da pugile un po' rintronato, suonato, però sta sempre lì, ci mette la faccia, invece il Claudio lo vedo sempre agitato, è andato ad ospite un paio di volte, ma lo vede sempre agitato, che si muova, che cammina, non sta mai fermo, e spesso in molti intervisti lo vedo sempre dietro la protezione di cancelli, di finestre, dietro delle sbarre, sempre dietro, dietro, e allora pure io potrei dire come una difesa inconscia, non è uno che vede il giornalista, si siede, si siede, parla, no, è sempre quelle cose di fretta, che chiude la macchina, la portiera della macchina, oppure stai in giardino, è come qualcosa di sfuggente, e queste, fanno tante le analisi introspettive, e quindi le faccio pure io, ne avrò pure titolo, voglio dire, va bene amici, ho fatto un video, un video un po' lungo, ma mi piace parlare con voi, perché, mi ci trovo molto bene, mi ci trovo molto bene, e spero, che vi siano, invece di tutte queste illazioni, esca fuori qualcosa di, di concreto, che possa indirizzare le indagini, verso una direzione, univoca, grazie, un abbraccio, a tutti quanti voi, vi voglio bene, ciao, grazie, 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 Grazie.